Bocca mamma da Rossa Dobrado Quando l'orologio indica 6, il primo numero, il secondo indica 30, penso che si dica se è 30, giusto? Se era il cucinello in stile puttino, guardatelo, incredibile si muove, reagisce e colpisce, attenzione, no il zoccolo no! Stefano cosa hai fatto? Stefano non è meglio che dormivi Stefano Stefano, Stefano, un'intervista verità E' un momento drammatico per questo Stefano, questo è per te Stefano Cioè non ti sei mai mosso E' la tua vita Ti sei mosso E' per tua Che dici? Un attimo di silenzio, una cosa delicata Lo aggiustiamo facendo un A-V tipo di U-S-T Così anche un segno di riconoscimento Si Sì? 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 Grazie a tutti